liturgia del giorno liturgia del 6 agosto trasfigurazione di nostro signore la festa del 6 agosto fu originariamente celebrata in oriente venne poi estesa tutta la chiesa da gallisto secondo il 6 agosto del 1457 a ricordo della liberazione di belgrado nel 1456 il padre ci presenta gesù nella trasfigurazione come il figlio amatissimo nel quale trovano compimento la legge e i profeti e del quale già in trasparenza si intravede la gloria questa sarà piena dopo il viaggio sul calvario con la risurrezione il cristo è trasfigurato perché i discepoli trovino la forza per sostenere lo scandalo della croce nel segno di una nube luminosa apparve lo spirito santo e si chiudi la voce del padre questi è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo o dio che nella trasfigurazione del cristo signore nostro hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai miralmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo figlio per diventare coeredi della sua vita immortale egli è dio e vive regna con te nella unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen dal libro del profeta daniele io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise la sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la nana e il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano la corte sedette e i libri furono aperti guardando ancora nelle visioni notturne ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio d'uomo giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui che gli diede potere gloria e regno tutti i popoli nazioni e lingue lo servivano il suo potere un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto parola di dio daniele assiste all'apparizione di dio giudice e signore di tutti nell'immagine del vegliardo lo stesso vegliardo affida la regalità a uno come figlio d'uomo costituito signore universale dal salmo 96 splende sul suo volto la gloria del padre il signore regna esulti la terra gioiscano le isole tutte nubi e tenebre lo avvolgono giustizia e diritto sono la base del tuo trono i monti fondono come c'era davanti al signore davanti al signore di tutta la terra i cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria tu sei signore l'altissimo su tutta la terra tu sei eccelso soprattutto gli dèi dalla seconda lettera di san pietro apostolo carissimi non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del signore nostro gesù cristo ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza egli ricevette infatti onore e gloria da dio padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte e così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti alla quale fate bene avvolgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo scuro finché non spunti il giorno e la stella del mattino si ledi nei vostri cuori parola di dio il vangelo relativo al signore gesù non si fonda su favole inventati ad arte ma sulla testimonianza che viene dall'esperienza oculare degli apostoli spettatori della sua rivelazione e del suo riconoscimento da parte del padre nella trasfigurazione tale testimonianza rimbigorisce la stessa scrittura lampada in attesa che venga cristo glorioso alleluia alleluia dalla nube luminosa si udì la voce del padre questi è il mio figlio prediletto ascoltatelo alleluia dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù prese con sé pietro giacomo e giovanni e li portò sopra un monte alto in un luogo appartato loro soli si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianchissime nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro elia con mosè che discorrevano con gesù prendendo allora la parola pietro disse a gesù maestro è bello per noi stare qui facciamo tre tende una per te una per mosè ed una per elia non sapeva infatti che cosa dire poiché erano stati presi dallo spavento poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra ed uscì una voce dalla nube questi è il mio figlio prediletto ascoltatelo e subito guardandosi attorno non videro più nessuno se non gesù solo con loro e mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare nessuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti ed essi tennero per sé la cosa domandandosi che cosa volesse dire risuscitare dai morti parola del signore la trasfigurazione rivela una volta ancora l'identità di gesù come il battesimo egli è il figlio prediletto di dio inviato perché sia ascoltato e lui la parola il vangelo l'inabitazione e la tenda di dio il segno della sua presenza nella sua persona trasfigurata santifica queste offerte o padre per il mistero della trasfigurazione del tuo unico figlio e rinnovaci nello spirito con lo splendore della sua gloria per cristo nostro signore amen è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te signore padre santo dio onnipotente ed eterno per cristo nostro signore amen dinanzi ai testimoni da lui prescelti egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità in tutto simile alla nostra fece risplendere una luce incomparabile per preparare i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella trasfigurazione la meravigliosa sorte della chiesa suo mistico corpo e noi uniti agli angeli ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode santo 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 e il signore il dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria osanna nell'alto dei cieli benedetto colui che viene nel nome del signore che viene nel nome del signore osanna nell'alto dei cieli quando il signore si manifesterà saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è gesù prese con sé pietro giacomo e giovanni e li portò su un alto monte e si trasfigurò dinanzi a loro il pane del cielo che abbiamo ricevuto o padre ci trasformi a immagine del cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria egli vive e regna nei secoli dei secoli amen 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 amen